Polpette di zucca al forno La ricetta delle polpette di zucca al forno è una ricetta facile da preparare e dal risultato garantito. Ideale da servire come antipasto o secondo, per una cena o un pranzo invernale, le polpette di zucca al forno sono un piatto caldo e saporito, che farà sicuramente felici tutti i vostri ospiti. Per preparare le polpette di zucca al forno iniziate con l'affettare la zucca sbucciata e senza semi, poi mettetela in una ciotola e conditela con un pizzico di sale e un po' di noce moscata. Fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 20 minuti. Nel frattempo preparate una ciotola con una tazza di farina, un uovo, una cipolla tritata, del prezzemolo tritato, un po' di pecorino e un pizzico di sale. Amalgamate tutti gli ingredienti insieme e aggiungete la zucca cotta e schiacciata. Sistemate l'impasto in una teglia rivestita con carta da forno e fate cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi centigradi per circa 20 minuti. Le polpette di zucca al forno sono pronte, servite le calde accompagnate con un contorno di verdure e una spolverata di prezzemolo tritato.